Dopo la decisione da parte del Comune di Teramo, di Isola del Gran Sasso e della provincia di costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario che vede indagati i vertici di Ruzzo, strada dei parchi e istituto di fisica nucleare per l'ipotesi di inquinamento nella falda acquifera che alimenta la rete idrica a servizio di oltre 700.000 abruzzesi, il gruppo di Teramo aperto e chiuso l'udienza preliminare di stamani, dichiarando la propria non competenza rispetto alle ipotesi contestate agli indagati. Per questo motivo ha deciso di rinviare tutto nelle mani della Procura. Per una tecnicalità sono stati rimessi gli atti al pubblico ministero che dovrà riesercitare l'azione penale nella forma del decreto di citazione diretta a giudizio, quindi non in termini di positività perché l'udienza essenzialmente ha avuto una battuta di arresto. In termini generali è un'inchiesta di estremo interesse che vede un cambio di passo anche per noi amministrazioni nella misura in cui la Procura della Repubblica per la prima volta con estrema e le trasparenza ha inviato gli atti a tutta la filiera istituzionale chiedendo un intervento, un intervento per quanto di rispettiva competenza. Come ente parco nazionale oggi ho ritenuto doverosa la presenza dell'istituzione e soprattutto ho istituito una commissione che all'interno dell'ente ha verificato le procedure e le indicazioni provenienti dalla Procura e dai tecnici di alto profilo indicati dalla fila Procura e le concludenze sono nella necessità di mettere effettivamente in sicurezza la struttura dell'acquifero del Gran Sasso purtroppo con un onere economico non di poco momento che dovrà naturalmente gravare su chi è proprietario delle opere, cioè il Ministero delle Infrastrutture e naturalmente per quanto di competenza noi solliciteremo anche il Ministero dell'Ambiente a un intervento di recupero di finanziamenti straordinari laddove l'acquifero del Gran Sasso non può più attendere. Dal punto di vista processuale è chiaro che il dato del costrutto accusatorio come noi le diciamo rimarrà integro e si andrà a giudizio con l'esercizio diretto dell'azione penale ad opera della Procura della Repubblica che sul punto è il fortemente giustamente determinata.